Io già lo so, qualcuno vedrà questo video si farà girare il culo, io voglio dire, a me mi ha girato solo a pensarlo, ma voi vi rendete conto, i governanti nostri vanno in Europa a chiedere flessibilità, a ritornano, che fanno? No, se non paghi il limo e la tarzio ti sequestrano il conto e la casa, la proprietà privata, è una cazzata, poi un'altra cosa, non capisco, tutti si scandalizzano, Trump ha messo i tazzi, Trump ha messo i tazzi, e noi ci stanno a fare un culo così, non vi ha da nessuno, ma poi un'altra cosa, un'altra cazzata, l'IVA, è aumentata l'IVA, Una cosa che costava mille lire, ma costa un euro, du mila lire, significa l'IVA su mille lire, su ducento lire, su un euro, su quattrocento lire, è aumentata il cento per cento, c'è un'entrata fiscale, è il doppio di quello che prima, la gente, cazzo, mi frega un cazzo, tutti a fare i girotondi, i girotondi, ma che cazzo stanno a fare? Italiano, tu cazzo stai? Lo so, ho detto i parolacci, ma ce vanno, ce vanno, perché uno Stato così che dice, entriamo in Europa, libero mercato, puoi circolare per tutto, però devi portare i soldi a presso, libera concorrenza, Le fabbriche si uniscono e diventano una fabbrica sola, libera impresa, ti fanno lavorare perché ti riempiono le tasse, ma che cazzo stiamo a fare? Italiano, tu cazzo stai? Ma, la macchina, la macchina vai a rate, ti fanno pagare dieci centomila volte, e il cellulare per caricarlo, ti sei andata la pensione di tua madre, i soldi tua, i soldi te, ma che cazzo, prima, col mattone, mettete i soldi sotto al mattone, ci hanno fatto l'Italia, E però facevano a meno tante cose, noi avevamo i desideri, apriamo i mutui, abbiamo indebitato l'Italia, l'Europa si chiede, tu Stato c'hai i debiti, l'italiano no, è proprietario delle case, e metti se cazzo di tasse sulle case, Ma ora ti arriva pure il cambiamento, la rivalutazione del reddito catastale, c'hai una stalla, diventerà villa, e pagherai per la villa, ma tu ti rendi conto che questi stanno a sputare, sul piatto ti mancano, Ti dicono la mano in saccoccia tutte le mattine, pagamo queste cazzo di tasse, quelle giuste, che ti dice che l'Imo e la Tarso sono legittime? La casa non fa reddito, si affitti una casa allo Stato e tassi con le quali, se quello non ti paga e ci rimane dentro, tu fai anni e anni di causa, lo Stato non ti tutela, Però dice, fa reddito, ma che cazzo fa reddito? Sanno accadere, le imprese non lavorano più, le case non si riverniciano più, non si sistemano più, decadenza! Ma che cazzo stiamo a fare? Che cazzo stiamo a fare? Deficienti tutti in faccia della televisione, avete delle cazzate? Passate, qua c'è stanno, l'artigianato, ora si parla di Ilva, mi dispiace per quelli che sono davanti all'Ilva, mi dispiace, dal 90 adesso sono chiusi milioni, mila o milioni qua di artigiani, nessuno ha speso mezza parola, erano posti di lavoro che si sono persi, nessuno ha sprecato mezza parola, Chiude una fabbrica, chiude, libero mercato, c'è il fallimento, c'è il fallimento, ma il fallimento vero è che tu non puoi lavorare tranquillo, perché sai che lo stipendio adesso entra in banca, può essere ignorato, La macchina tua, che dicono che è tua perché hai fatto il passaggio di proprietà, già ce l'hai pagata due volte, e la macchina diventa, poi scusa, te pigli le tasse e in cambio non mi dai un cazzo, Provate la mattina a guardare per terra per la strada piena di buche, spaccate la macchina, quella che vi sequestra perché non rispetti le regole, e perché non sistemano le strade, che il codice stradale prevede che le strade devono essere ben sistemate perché è il luogo di lavoro, nell'ambito del lavoro se viene l'asle c'è qualche cosa fuori posto, ti fa chiudere, Io devo rispettare il codice della strada, e la strada deve essere a norma, le strisce orizzontali, verticali, non deve tenere buche che rega tarno a chi? All'automobilista, che famo noi? Gazzo, la strada che fa? C'è tassa, percesso di velocità, che tu hai dovuto perdere tempo a schivare le buche, poi accelere in botte e fa pure la multa, Stiamo alla frutta, ci hanno, oh sveglia, ci hanno levato tutto, prima con la lira non valeva niente, e il turista veniva, faceva il signore, qua sai che famo a Roma, non parliamo di Venezia, tutti i luoghi turistici, quando vedono uno che non parla italiano, gli fanno un culo così, quello sta un giorno solo e se ne va, la colpa è dell'italiano, Io mi posso scusare con tutti, quello che si è fatto girare il culo a vedere questo video, sappi che domani tuo figlio non trova lavoro, e se non trova lavoro, e non può fare una famiglia, non si può comprare una casa, non può comprare una macchina, non può sistemare gli altri figli, la colpa è la tua, la colpa è la tua, non è dello Stato, Quelli mangiano sul piatto che noi tutte le mattine ci mettiamo davanti, e devono fare qualcosa per il paese, non possiamo diventare, ma addirittura, Adesso i scontrini diventano una lotteria, adesso la legge è passata adesso, sono mesi che stanno a mettere il registratore di cazzo per questa cazzata, Ero già d'accordo, dove cazzo stai? Sveglia! Si sfogano tutti, ma sto a sfogare pure io, sto a recitare, però serve per far vedere, non la verità, una delle verità, Che noi andiamo a lavorare, con i pensieri, che quando ritorno a casa trovi una cartella, che ti dice che quello che tu hai fatto fino adesso non è più tuo, Se tu c'hai un'azienda, ok? C'hai un'azienda, ti devono dare i soldi e non ti pagano, e non riesci a pagare le tasse, Lo Stato non è che viene dentro, viene a vedere chi ti deve dare i soldi, purga prima loro, e poi la differenza purga a te, Purga solo a te perché c'è la partita IVA! Solo a te ne frega un cazzo! Dammi lo strumento per recuperare il debito, per pagarti! Queste sono cose serie, io sto a recitare, ma è una cosa seria, basta con le stronzate, basta destra, sinistra, centro, Il popolo italiano è un ciocco che viene affettato alle votazioni per farci litigare tra noi, basta difendere Salvini, Di Maio, Lameloni, dobbiamo difendere il popolo italiano! Quello dobbiamo difendere, se no siamo tutti coglioni, basta sto fascismo, ste cazzate, il popolo italiano è sovrano! Bisogna esercitare la nostra sovranità, con educazione e coscienza, se le tasse non sono legittime, non sono legittime! Per l'intelligenza intellettuale, data da chi? Dallo Stato che ci ha fatto studiare, mi dovete guardare negli occhi, so recitare ma ci stanno le lacrime, perché so di col cuore! Fate qualcosa, se le cose non vanno bene, adesso bisogna fare i girondini, no prima per le cazzate! Adesso, tutti quelli colorati, di tutti i colori, e quelli verdi, e quelli gialli, e quelli marroni, quando, se non criticano questa cosa, significa che loro non hanno una libera impresa, non soffrono queste pene! Siamo perdendo posti di lavoro! Il futuro dei nostri figli! Io vi saluto, a me i coglioni mi sono girati, solo a pensare, solo a fare sto cazzo di video, però, non voglio spiegare altro fiato, arrivederci e grazie! Grazie!